Centro Moquette Rimini si occupa della vendita di tappeti provenienti da tutto il mondo, moderni orientali. Centro Moquette Rimini Il punto vendita tratta inoltre una vasta gamma di articoli complementari come tendaggi e tessuti d'arredamento, rosoni e cornici in poliuretano, corsie per albergo, tromblo a elmurali, sugheri da rivestimento e pavimento, coprisoglie e terminali per pavimenti, collanti. Centro Moquette si contraddistingue da sempre per l'alta qualità dei prodotti offerti, per la cortesia e la competenza. Centro Moquette Rimini